Il vero cristianesimo Non è forse darsi di più piuttosto che dare il di più? Se dare includesse anche il tuo tempo, il tuo conforto, il tuo incoraggiamento, cosa succederebbe? Quando doni, una parte di te viene meno per fare spazio alla nostra più grande missione. Amare e supportare chi ci sta a fianco. Quest'anno esserci è l'atto di fede più folle che tu possa fare. Datti la possibilità di essere la risposta di Dio al bisogno di qualcun altro. Sei pronto ad essere il miracolo che l'altro cerca. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Allora, è molto importante il messaggio che noi riceveremo oggi. Siete pronti? Questo messaggio è ispirato nel libro di Naum. Chi ha già letto il libro di Naum? Una volta noi usavamo la Bibbia di carta. Chi usa ancora la Bibbia di carta? Ah, bello. Per studiare non c'è uno, anche solo l'odore. Segnare. È vero che con l'iPad anch'io lo uso. Ci sono i highlighters dove puoi scrivere, segnalare. Ma è diverso. Forse non lo so, la nuova generazione fa così. Scrivere. Io a volte ho delle Bibbie che oltre ad avere tutto scritto, questo vuol dire questo, poi vuol dire questo, metto anche i post-it sopra. Tipo per aggiungere il commento al commento del commento. Perché noi dobbiamo, la Bibbia non dice solo di leggere la parola di Dio, ma di meditare. Meditare è la stessa parola usata per ruminare, mangiare, mangiare, rimangiare, rimangiare. Quello che trasforma la nostra vita è meditare. Quindi che cosa Dio mi vuole dire, dove mi vuole portare, cosa mi sta dicendo. Alcune volte noi vedremo anche il momento storico della Bibbia e altre noi prenderemo spunto, ispirazione da ciò che la Bibbia dice. Amen. Quindi se tu, chi fa la lettura? Tipo inizio gennaio, fai la lettura una volta all'anno. Quattro persone leggono la Bibbia e sono molto contenta. Se tu non hai mai fatto un piano di lettura, o so che ci sono quelli che iniziano tutti gli anni dalla Genesi, da 15 anni che sono credenti, hanno letto 15 volte la Genesi. Magari cambia, no? Inizia l'anno tipo, inizio da Naum. Così magari l'anno prossimo inizi da Sofonia e tutto cambia. E' molto importante conoscere la parola di Dio. Amen. Quindi incomincia adesso che è settembre. Settembre è anche un momento di incominciare le cose. Se tu hai qualsiasi app della Bibbia, poi, là ci sono dei piani di lettura, puoi leggere, non lo so, solo cronologicamente la Bibbia, solo il Nuovo Testamento, solo i Salmi, un po' e un po'. Ci sono anche dei piani di lettura che parlano solo di economia, piuttosto di tanti altri argomenti. Quindi vi consiglio di andare lì e se non hai ancora, incomincia un piano di lettura semplice, non darti degli obiettivi troppo alti. Sei tipo, leggerò in due mesi. Se non sei abituato a leggere, neanche in generale, magari non leggerai in due mesi, incomincia con qualcosa che sai che puoi fare. Amen. Però quanto più ti riempirai della parola di Dio, più la parola di Dio prenderà luogo nella tua mente e tu potrai affrontare tutte le cose della vita perché è molto, molto importante. Chi ha mai letto la Bibbia? Tipo in un mese. Io e la Valeria. Fate delle esperienze così perché è già abituato a leggere. È meraviglioso. Lo so che devi tipo prendere o in momenti di vacanza oppure almeno quando noi la leggevamo, mi ricordo anche la Vale, ti alzavi primissima. C'è il Savamo prima. A volte ore, ore, ore alla mattina, ore, 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 ore. Se non puoi in macchina, ascolta. È così importante che tu sia pieno di parola perché quando ci sarà un problema tu saprai già come risolvere. Non perché saprai la parola di Dio a memoria. Perché nessuno di noi sa tutta la parola di Dio a memoria. Ma i principi della parola di Dio rimangono. Amen? Per esempio, quando tu leggi tutta la Bibbia ad un fiato, tu comprendi. Là stai leggendo, non stai meditando. Il meditare è prendere pezzettino per pezzettino. È diverso. Ma quando stai leggendo ti rimangono dei macro concetti. Tipo un macro concetto che vedi sicuro è quanto Dio ci tiene al popolo ubbidiente. L'altro macro concetto che vedi è come arriva un momento dove Dio fa giustizia. E il libro di Naom del quale voglio prendere spunto oggi è un libro che parla di questo Dio che fa giustizia. Non so se sapete ma questo libro è una profezia sulla distruzione di Ninive. Chi si ricorda di Ninive il profeta Giona? Questa è una storia che più o meno quasi tutti conoscono. Ecco, questo libro è stato scritto più o meno 120 anni dopo la storia del profeta Giona. Quindi Dio ha mandato Giona personalmente 120 anni prima a parlare ai Niniviti e sapete, no? Vi ricordate che Giona loro stavano super antipatici a Giona e lui ha detto non ci vado non ci penso non voglio sapere perché diceva così se non profetizzo muoio non sono contento perché mi sta antipatico. E come qualcuno che ti sta molto antipatico Dio inizia a dirti prega per quella persona digiuno ti dice devo non mangiare per quello che mi sta antipatico penso che anche a noi verrebbe di fare un po' come Giona perché a te vieni voglia di digiunare non lo so mia madre non sta bene digiuno prego ma pensa alla persona ma non so che ti ha fatto più male che ti ha insultato quella persona che dice e arriva lo spirito santo e ti dice io voglio che tu digiuni ventun giorni per la persona più antipatica per quella che ti ha fatto più male che tu la benedica che tu preghi per lei e poi vai a predicare perché la voglio salvata so che noi leggiamo e diciamo ma Giona era temperamentale anche noi siamo temperamentali dici cosa ventun giorni senza mangiare per quello lì e più o meno è successo così noi sappiamo come va a finire la storia Giona obbidisce Dio obbligato no? che poi vuole dire chissà che quando Dio ha un piano lui ti tartassa affinché tu fai quella cosa ti è mai capitato che Dio ti dice di chiedere perdono a qualcuno ma tu dici che non è tu dici non è colpa mia ma lui ti dice vai lì e chiede perdono lo stesso e tu dici con Dio dicendo non vado non vado chiama quella persona è lei che mi devi chiamare non sono io che devo chiamare e alla fine Dio ti dice chiama tu e tu non fai una lotta con Dio chissà che Dio ci piega perfetto quindi a un certo punto noi sappiamo che Dio piega Giona c'è la storia della balena che non è una balena anche se tutti dicono la balena non è esiste un pesce anche qualche penso che qualche settimana fa è uscito anche su tutti i media di questo pesce che ha ingoiato una persona esiste veramente un pesce dove a volte è già capitato molto grande che una persona potrebbe rimanere viva dentro di lui per qualche giorno quindi esiste in Inghilterra dice Nick perfetto il tipo ha vissuto ancora dopo altri 18 anni quindi non era una balena ma lui è stato lì insomma sicuramente ha avuto tempo per pensare dentro la pancia della balena forse qualcosina pensi dice ma forse Dio è più facile che vivere qua dentro cosa dite secondo me ha fatto un paragonio e ha detto preferisco i niniviti no uno dice pesce e ballena niniviti almeno respiro e quindi è stato convinto da Dio noi sappiamo dalla storia di Gionna che i niniviti si convertono per suo stupore addirittura incominciando dal re tutti si vestono di sacco dice la Bibbia il vestito di sacco era un modo ti vestivi con i peggiori vestiti che avevi quasi quelli che vanno sotto e rimanevi lì pregando e chiedendo perdono a Dio era un modo di dire mi umilio e sappiamo che tutta la città ha avuto il perdono di Dio e in quel momento Dio ha mandato Gionna per predicare il ravvedimento nel libro di Naon Dio non manda un profeta per predicare il ravvedimento anzi pare che neanche i niniviti abbiano mai letto esattamente il giudizio contro di loro perché questo libro viene scritto direttamente per Giuda anche se parla della caduta degli assiri e quindi anche dei niniviti però non si sa se è arrivata nelle loro mani ma questa volta non c'è più un se ti converti se cambi se migliori le cose cambieranno non verrà giudizio su di te la tua vita migliorerà non c'è più questa parte questa era la prima parte ma passano 120 anni lo stesso popolo che si è pentito che era davanti a Dio c'è stato un risveglio a Ninivi un risveglio di fede 120 anni prima ma 120 anni dopo loro sono diventati comunque tremendi tra i peggiori e avevano già gli assidi avevano già invaso nel 721 il regno del nord non so se vi ricordate un po' la storia ma c'è stato un momento dopo che Salomone ha peccato Dio ha deciso che non avrebbe distrutto tutto Israele ma avrebbe diviso ha tenuto due tribù Beniamino e Giuda e altre dieci tribù sono andati da un'altra parte hanno fatto centro in Samaria e poi lì anche con il reggio Gerobamo hanno incominciato ad essere idolatri insomma sono stati divisi da allora da allora il popolo di Israele non si sa bene chi è di quale tribù c'è tutto stato un miscuglio poi con tante altre cose nella storia ma in quel momento quindi loro avevano già invaso Israele del nord cioè il regno del nord e nel 701 attorno al 701 hanno fatto un cerchio attorno a Giuda Giuda sarebbe l'Israele del sud anche se viene chiamato Giuda e invece viene chiamato Israele del nord allora a quel punto loro hanno fatto un cerchio sapete come erano i cerchi se tu sei già stato in Israele probabilmente hai visto la fortezza di Massada che e vedi che ci sono ancora i disegni cioè loro mettevano l'esercito fuori dalla città la Massada tu puoi vedere addirittura dove hanno piazzato l'esercito sapete che le città erano costruite in alto perché era il modo migliore di difendersi per questo anche in Italia noi abbiamo dei luoghi e in tutta l'Europa tu vai là a vedere il castello e dici come hanno fatto a costruire è sempre in alto perché ovviamente era molto più difficile arrivare dall'alto era più facile difendersi quando uno era in alto però uno dei modi anche quando le città non erano in alto quindi quando potevano le mettevano in alto quando non potevano facevano le mura comunque sempre loro mettevano l'esercito nemico fuori e la gente non poteva né entrare né uscire dalla città questo causava cosa? debolezza perché iniziava a mancare il cibo quando invece ma durava in alcuni cerchi duravano sei mesi un anno non è che stavano lì una settimana finché la gente perché ovviamente dentro le città non erano le piantagioni in genere sono fuori dalle città e anche dove portavano gli animali non potendo uscire né entrare iniziavano ad avere fame e quando erano affamati indeboliti allora il nemico cosa faceva? entrava e aveva più facilità di distruggere allora a questo punto nel libro di Naum che viene dedicato appunto a Giuda che cosa succede? loro avevano già invaso il regno del nord e avevano già fatto il cerchio attorno a Giuda e Dio però dà un attraverso il profeta Naum un decreto e dice non ci sarà neanche memoria degli assiri e invece io distruggo pienamente i niniviti non c'è più un se ti converte c'era già stato è molto comune che una persona questo anche tradotto nel personale tu puoi essere super benedetto da Dio pentirti cambiare e poi passano degli anni e alcuni possono tornare ad essere esattamente quello che erano per questo la Bibbia nel libro di Ecclesiaste dirà meglio la fine delle cose che il loro inizio perché tante volte noi siamo molto felici diciamo ah si è convertito ah guarda quella persona hai cominciato a venire in chiesa ah vieni sempre e fai questo e servi Dio poi passano alcuni anni e noi li cerchiamo in quel programma chi l'ha visto perché perché molti si convertono per entusiasmo o per paura i niniviti hanno avuto paura 120 anni prima e poi arriva un momento del giudizio lo so che noi abbiamo un'idea di Dio come se lui fosse Babbo Natale porta solo i regali ed è un uomo con la barba bianca buono ma l'amore di Dio implica anche il giudizio di Dio amen e Dio ci ha creati ci ha dato delle dritte di come vivere e noi siamo in un momento difficile siamo in un momento molto difficile il libro di Naum ci racconterà non parlerò del libro di Naum prenderò solo un pezzo ma sto raccontando per contesto come Dio è giusto quindi questo libro arriva nelle mani di Giuda e Dio stava dicendo guarda vi voglio dire quello che farò con i vostri nemici è come se Dio ti scrivesse una lettera tutto quello che succede magari tu sei arrabbiato con la politica nel mondo in Italia e Dio ti scrive un libro e dici ti dirò quello che succederà da adesso in poi li sterminerò li ucciderò farò e quindi come se lui ti desse una lista di cosa farò con i tuoi nemici ti dico io e tu ti senti un po' meglio perché diciamo allora esiste una giustizia no così è della Bibbia quando tu leggi l'Apocalisse in alcuni momenti chi non è credente non ama l'Apocalisse ma chi è credente non ti viene un senso di giustizia dicendo allora finalmente faremo fuori tutti i cattivi era arrivato il momento era ora che succedesse qualcosa e non sei contento quando leggi il libro dell'Apocalisse di dire io sono in Cristo e qua Dio sta dicendo esattamente questo sta dicendo il popolo di Giude sta dicendo ragazzi io so che siete stati oppressi il regno del nord ormai è stato spazzato via da loro loro vi hanno cerchiato vi hanno fatto soffrire ma non preoccupatevi perché sta arrivando il mio giudizio e io non permetterò che continuino a distruggere tutto quello che è vostro io vi farò giustizia e lui elenca come farà giustizia ma c'è un momento dove io voglio vedere che Dio dà un consiglio sta parlando con Giude dà un consiglio e dice cosa uno deve fare quando sta per arrivare il giudizio di Dio e in Naum 2 nel verso 1 dice così un distruttore marcia contro di te custodisce bene la fortezza sorveglia le strade rafforza le tue reni raccogli le tue forze quindi quando Dio dice guarda sta arrivando il distruttore e ti dico cosa fare noi siamo in un periodo sulla terra dove sta arrivando il distruttore cioè comunque vediamo come le cose stanno prendendo forme e nei momenti difficili quando stiamo per vivere una guerra spirituale anche Dio ci dà queste quattro cose da fare mentre noi per poter resistere nel momento della guerra e il primo è questo custodisce bene la tua fortezza dite com'è custodire bene la mia fortezza nella parola di Dio chi vieni chiamato come la nostra fortezza chi si ricorda guardate guardiamo alcuni passaggi salmi 18-2 salmo 18-2 dice così il signore è la mia rocca è la mia fortezza il mio liberatore il mio Dio la mia rupe il mio rifugio il mio scudo il mio potente salvatore il mio alto rifugio quindi lui dice guardiamo un altro salmo 31 del 2 al 3 dice porgi a me l'orecchio affrettati a liberarmi si per me è una forte rocca una fortezza dove tu mi porti a salvo tu sei la mia rocca la mia fortezza noi troveremo preso solo alcuni passaggi vari passaggi nella Bibbia dove la fortezza del credente è Dio stesso quindi quando arriva un momento difficile sulla terra il momento del giudizio di Dio il momento della giustizia di Dio noi come dobbiamo prepararci per i momenti che arriveranno numero uno custodisce bene la tua fortezza custodisce il tuo rapporto con Dio custodisce il tuo rapporto con Dio cosa vuol dire custodire vuol dire avere cura quindi abbi cura per essere pronti per un momento di giudizio che arriva sulla terra abbi cura del tuo rapporto con Dio allora noi siamo in un momento molto particolare nel mondo per esempio almeno non so voi ma io l'egoista grance sempre fai ginnastica è anche un po' estate mangia in questo modo una cultura del cibo che va benissimo va benissimo che possiamo imparare a mangiare bene abbiamo il mondo ha scoperto che è importante quello che mangi sei quello che mangi tante altre cose e noi ci regoliamo no? soprattutto poi a settembre uno inizia a dire devo stare attento chi è già messo i piedi a settembre dicendo devo stare attento a ciò che mangio non posso mangiare troppo sono ingrassato qualche chilo nelle vacanze e così via ecco quando è così dice tu stai custodendo tu non usi questa parola ma sei custode della tua alimentazione una persona prendi e dice dai ti offro questo tu guardi e dici no io magari il glutine adesso non sto mangiando no io ho fatto un esame adesso con lattosio sono un po' grazie tu vuoi dire che stai avendo cura di quello che mangi perché hai un obiettivo voglio essere più in salute voglio dimagrire insomma quello che vorrai con il cibo noi facciamo questo con facilità a volte facciamo questo con facilità anche voglio andare in palestra guardi io vado quattro volte alla settimana dalle alle c'è un momento libero a pranzo corro perché se no non avrei una quindi stai avendo cura stai custodendo quel momento perché hai deciso di curare il tuo corpo ecco questa parola custodire ha a che fare con avere cura proteggere e se tu fai tutto questo per il cibo per qualsiasi cosa sia per tuo figlio dice no non devi vedere i cartoni no puoi vedere solo un'ora al giorno no tu stai custodendo la mente di tuo figlio perché non vuoi che viva di rete sociale perché secondo te è un danno e qua dice custodisce la tua fortezza cioè perché quando arriva il rapporto con Dio noi arriviamo a non ho tempo non ce la faccio devo svegliarmi un'ora prima svegliati un'ora prima ah ma non riesco perché devo dormire 15 ore impara che vedrai che ti allenerai a svegliarti prima perché noi avremo tempo per tutto quello che è importante per noi dia la persona che è vicino a te tu avrai tempo per tutto ciò che è importante per te tu puoi dire non ho tempo per avere l'appuntamento con nessuno sì o no guardi e dice la mia agenda è piena ma ti chiama tua nonna che ha bisogno di te troverai posto nell'agenda sì o no a meno che la nonna ti sia antipattica troverai tempo ti chiama quella persona della tua famiglia ti chiama tua madre tuo padre ho bisogno urgente di parlare con te tu cosa farai lo metterai o non lo metterai nell'agenda certo che lo metterò nell'agenda anzi cancellerò un paio di persone che non c'entrano niente e darò enfasi a loro così devi custodire il tuo rapporto con Dio guarda puoi fare un milione di università puoi fare un milione di corsi puoi fare tutto quello che vuoi puoi curare tutto quello che vuoi la tua alimentazione del tuo corpo niente si paragonerà mai con quello che Dio può fare nella nostra vita soprattutto attraverso il nostro rapporto personale Dio parla attraverso una predica Dio ti parla personalmente lui ti dà una parola profetica ma quello che lui fa quando una persona si espone alla presenza di Dio nessuno riesce a fare nel pastore nell'amico nel consigliere nello psicologo nel mentore nessuno potrà mai sostituirsi al nostro rapporto con Dio e addirittura lui viene chiamato come la nostra fortezza cioè la fortezza è quel luogo così protetto che il diavolo non entra non permettere al diavolo di entrare nel tuo rapporto con Dio dai priorità segna svegliati io ti do un consiglio tante persone vivono una procrastinazione avete presente lo faccio settimana prossima domenica prossima cosa prossima è molto facile entrare in questo per non entrare ci sono alcuni segreti e il primo segreto è svegliati presto lo so che può essere difficile ma ti alleni per fare svegliati presto fai il tuo tempo con Dio fai il tuo tempo con la parola di Dio se devi fare sport fallo sempre alla mattina e avrai alle nove del mattino tu hai già tutta la giornata per fare un milione di altre cose e quando tu dai tempo a Dio sopra ogni cosa tutto il resto funzionerà la Bibbia dice se la radice è santa tutto il resto viene santificato se tu vuoi avere una giornata santificata svegliati e dai primo momento a Dio sapete che nel libro dei proverbi dice maledetto l'uomo che saluta l'altro la mattina io la prima volta che leggo dico oh non possiamo più dire buongiorno uno guarda e dice perché non mi saluti voglio mica essere maledetto perché c'è un letto nella Bibbia maledetto l'uomo che saluta l'altro quindi passa il vicino e dice buongiorno forse i milanesi hanno letto questo coso e dicono ecco perché noi non salutiamo mai alla mattina forse per questo l'avranno letto in un modo l'hanno interpretato male perché perché sta dicendo questo perché nella cultura ebraica tu non potevi rivolgere un saluto a qualcuno prima di guardare in alto per ringraziare Dio e quindi quando ho letto perché sono andata a vedere un commentario dicendo magari non posso più salutare nessuno quando ho letto ho studiato questo ho compreso che era c'era una maledizione nella Bibbia per coloro che alla mattina salutano chiunque altro prima di dare tempo a Dio se questa è una maledizione rivertiamo la benedizione com'è? Benedetto l'uomo che ha tempo con Dio e lo saluta in ogni mattina amèn? puoi salutare tutti se ancora non hai salutato Dio neanche tuo marito buongiorno amore scusa signore cos'è? che volevi dire adesso già vedo io distruggendo delle famiglie mio marito mi ha detto buongiorno io non lo saluto più alla mattina l'ha detto il pastore Roslyn ecco non ho colpe vi ho spiegato come fare allora quindi primo punto quando sta arrivando il giudizio di Dio sulla terra quando arriverà un momento duro è molto importante custodire il nostro rapporto con Dio abicura ogni giorno come è cura del cibo come è cura della tua vita della tua casa c'è gente che si cura così tanto anche il corpo ecco abicura di quel tempo con la parola di Dio e con Dio è importantissimo numero due cosa dice qua il profeta Naun primo dice custodisce bene la fortezza dopo dice sorveglia le strade allora nella parola di Dio quando parla di cammino luce della tua parola il proverbio dice che la parola di Dio è la luce che illumina il nostro cammino Gesù è il nostro cammino qua sta parlando della guida di Dio nella nostra vita quindi sorveglia le strade vuol dire stai attento a come Dio ti sta guidando stai attento all'input dello Spirito Santo dove mi sta portando è giusto che io sia in questo luogo è giusto che io sia in questo lavoro sorveglia è giusto che io faccia questo come avevo già detto qualche gospel fa forse eravate in vacanza e l'avete sentito togliete tutto quello che è inutile a volte togliete anche non lo so da Instagram tutto quello che è inutile uscite da quelli un milione di gruppi su Whatsapp che vi occupa solo spazio nel telefono e fai che non c'entra niente non vuoi neanche sapere non c'entri niente stai con le cose essenziali e ascolta lo Spirito Santo stai attento attenta a ciò che Dio ti dice come mi devo comportare non fare questo sorveglia anche lì vedete costodire sorvegliare vuol dire guarda bene fai attenzione a dove Dio ti sta portando poi continua e dice rafforza le tue reni rafforza le tue reni e dice così se voi guardate questo passaggio qui rafforza le tue reni le reni erano viste nella Bibbia ho messo qua vengono visti come la sede della coscienza come la fonte della moralità e dell'etica e venivano associati agli aspetti più profondi della personalità noi troviamo alcuni passaggi nella Bibbia alcuni salmi come il salmo 16 17 che dirà questo vabbè qua è un'altra traduzione ma dice benedirò il Signore che mi ha dato consiglio nelle stagioni bue e i miei reni mi guidano uno dice ma guidato dai reni era un modo nella nostra Bibbia nelle traduzioni più attuali molte parole che voi leggerete come cuore in realtà è scritto reni perché per loro vedete che anche la cintura della verità uno dice la cintura della verità la verità come cintura perché la cintura della verità copriva le reni per loro cosa vuol dire la cintura della verità vedi che dice verità vuol dire con il concetto che avevano di verità devi essere morale devi essere vero nella tua morale vero nella tua coscienza vero nel tuo modo di sentire vero nel tuo modo di pensare e allora veniva usato questo quindi quando lui dice rafforza le tue reni sta dicendo sia una persona più morale sia una persona con una coscienza più appurata dallo spirito santo sia una persona sana santa di buona coscienza torniamo a quello che dice la bibbia le reni dice vengono vengono visti come la sede della nostra coscienza fonte di moralità quindi rafforza la tua coscienza rafforza la tua moralità rafforza la tua etica rafforza la tua personalità rafforza la tua etica quindi rafforzo custodisco il mio rapporto con Dio ascolto e sorveglio a ciò che mi dice lo spirito santo e rafforzo la mia personalità rafforzo la mia etica io tradurrei con santità perché la santità ha a che fare con la forza della coscienza dell'etica della morale se una persona integra se una persona integra nei tempi duri noi dobbiamo essere integri e anche coerenti con ciò in cui crediamo amèn se c'è qualcosa che distrugge la fede di una persona e quando tu dici una cosa fai un'altra se ci sono delle persone che noi vogliamo seguire ammirare e imitare in genere sono delle persone che sono d'esempio che vengono a casa tua e sono come sono fuori perché perché tu speri coerenza vuoi vedere un figlio che si allontana da Dio i genitori che gli dicono Gesù ti ama Gesù 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 è a casa loro li vedono sempre che si scanano non vedono mai i genitori che pregano io a volte ho chiesto alcuni ragazzi loro hanno detto noi non abbiamo mai visto i nostri genitori prendere tempo con Dio e quindi noi dice che cosa insegnano ai figli allora è molto importante che tu sia integro e coerente perché coerente perché arriveranno stanno arrivando basta che guardiamo i giornali le pressioni arriveranno dei momenti stanno già arrivando dove ti premeranno perché tu rineghi Dio guardiamo solo la Bolivia stanno cercando di togliere la Bibbia non puoi più predicare la parola di Dio in ogni nazione al mondo il mio cognato che è un avvocato ha detto in tutto il mondo stiamo cancellando 50 anni di democrazia con le cose con le leggi che facciamo quindi stanno cercando di imporre cose non solo qui in molte nazioni cercando di imporre regimi governi modo di pensare tu cosa farai davanti all'imposizione ti tiri indietro perché è più facile tirarsi indietro o rimarai fermo perché sei etico e dice mi dispiace io questo non lo faccio allora andrai in prigione va bene io vorrei vedere quando arriveremo se arriveremo un momento così va bene ma io non lo faccio devi mentire ho visto l'altro giorno una ragazza che veniva intervistata una cantante cristiana molto famosa e gli hanno detto di una parolaccia che in portoghese era portoghese si dice palavraunque la traduzione è una parola grande la parolaccia vuol dire una grande parola e lei ha preso una parola della lingua portoghese che non era una parolaccia enorme che è parallelepipido e ha detto parallelepipido e la tipa ha detto ma questo non è una parolaccia e lei ha detto ma io non voglio dire una parolaccia ah ma tutti lo dicono e lei risponde io non sono tutti io sono figlia di Dio e io agisco in accordo con la mia coscienza noi arriverà un momento dove non puoi essere tutti ma tutti lo fanno nel lavoro ma tu non sei tutti ma tutti lo fanno a scuola ma tu non sei tutti ma tutte le donne lo fanno ma tu non sei tutte le donne ma tutti gli uomini fanno questo pensano peccano in questo modo ma io non sono tutti gli uomini noi siamo figli di Dio nati per manifestare la gloria di Dio nati per rappresentare Cristo sulla terra nati per avere una morale retta come Cristo ci ha consegnato nella parola di Dio la morale quella della Bibbia amen quindi numero tre custodisce la tua personalità chi sei lavora sulle tue decisioni sulla tua morale sulla tua etica sia una persona equilibrata e coerente e l'ultimo punto lui dice sempre in A121 raccogli tutte le tue forze allora nel linguaggio bellico della Bibbia raccogliere tutte le sue forze che cosa voleva dire? voleva dire conta quanti carri armati hai conta quanti soldati hai conta quante armi hai conta quanti uomini hai raccogli tutte le tue forze perché arriva la guerra tradotto nei giorni d'oggi sarebbe metti insieme tutte le risorse che hai per affrontare questo momento tutti i doni che hai tutti i talenti che hai metti insieme e dice come potrei usare questo in un momento difficile come potrei usare ciò che ho i doni i talenti che Dio mi ha dato metti insieme tutto quello che è forza per te tutti i tuoi punti di forza e con i tuoi punti di forza tu affronterai questo momento difficile che arriva il giudizio di Dio sulla terra amen è molto importante allora leggiamolo traducendo così come abbiamo un po' visto un distruttore marcia contro di te custodisce il tuo rapporto con Dio ascolta lo Spirito Santo si una persona integra e santa e metti a disposizione di Dio tutti i tuoi doni e tutti i tuoi talenti questo è il modo come potrai reagire in questi momenti che stanno arrivando su di noi non è in Italia c'è pressione in tutto il mondo c'è pressione politica in tutto il mondo anzi in Italia è quasi meno vicino ad altre nazioni ma se tu vai un po' sui giornali io che parlo tante lingue spazio un po' cioè in Francia c'è un caos non è che sono lì tutti tranquilli c'è lotta casino vogliono tutti contro tutti la politica c'è questa lotta dovunque nel mondo in America dopo l'Afghanistan vogliamo immaginare com'è la tragedia la gente che si alzi come è potuto lasciare tutte queste armi nella mano dell'Afghanistan come è potuto lasciare in questo modo c'è pressione mondiale sull'America in questo momento c'è pressione mondiale sul Sud America in Brasile adesso è il giorno 7 vanno sulla strada c'è il rischio di una guerra civile sono lì non è cioè il virus ha portato alcune imposizioni alcune decisioni dei governi che molti non sono d'accordo quindi non è una cosa italiana c'è pressione nel mondo noi cosa faremo pronti custodiremo il nostro rapporto con Dio continueremo a ascoltare lo Spirito Santo rimaremo integri e metteremo a disposizione tutto quello che Dio ci ha dato perché per combattere le nostre armi dice la parola di Dio non sono carnali ma vengono da Dio e questo è il modo come noi rimarremo in piedi anche se tutto attorno a noi starà crollando chi è stato nelle 48 ore di preghiera che abbiamo fatto le 48 ore di preghiera come resistenza vi ricordate siamo resistenza voi sapete che stavano per votare i Didi e Lezzan e l'hanno cioè l'hanno buttato lì nell'agenda e neanche si sa se parleranno più sapete che è successo dopo le 48 ore di preghiera è vero? avete guardato che è successo qualche giorno dopo non l'avete visto sappiamo che siamo stati noi o non lo sappiamo chi però ha pensato nella legge di Dio e Lezzano in altro durante le 48 ore di preghiera? nessuno noi siamo venuti qua per adorare essendo resistenza ma quando abbiamo incominciato ad adorare era così bello adorare che abbiamo guardato il cielo e non ci siamo occupati della guerra là fuori e mentre noi guardavamo Dio gli angeli di Dio lo spirito santo e le forze spirituali là fuori combattevano per noi la nostra arma è questa qua guarda non sono carnali il simbolo della nostra chiesa è un guerriero che non sta in mezzo alla guerra ma è in ginocchio la visione che Dio ci ha dato è il modo come guerreggerete sarà adorando e pregando questa sarà la vostra più grande arma la preghiera amén quindi quanto più è difficile là fuori smettete di essere sulle reti sociali a fare dibattiti a parlare male parlare male del governo è vero forse hai anche ragione ma noi siamo l'unico popolo sulla terra che non devi combattere con le armi che hanno gli esseri umani noi combattiamo con le nostre armi questo non sto dicendo che non puoi essere un politico se sei un politico farei questo di lavoro dovrai fare i tuoi dibattiti ma se non lo sei invece di essere lì a fare polemica ogni volta che c'è una notizia che non ti piaccia inginocchiati e di Signore Dio io ti amo io ti adoro io credo in te che venga il tuo regno sulla terra così in terra sia fatto come in cielo nel nome di Cristo Gesù amén alzatevi visto che siamo all'inizio dell'anno voglio invitarti a prepararti con me a dire ok il profeta Naum stava parlando a Giuda e dicendo guarda Giuda tranquillo il bello di questo libro è che parla di un Dio giusto di un Dio che ha visto qualcuno che stava opprimendo il suo popolo ma lui si alzerà io pensate ho detto il libro dell'Apocalisse è come nei tempi di Naum un libro della giustizia di Dio sulla terra all'epoca era solo per Giuda diceva Giuda io distruggerò i tuoi nemici penso che il libro dell'Apocalisse sia un libro per tutti i credenti dove Dio sta dicendo arriverà un momento dove io dirò basta perché non sono Babbo Natale sono Cristo io porto anche giustizia non porto solo regali amén appartiene al carattere di Dio quindi anche se sei un momento di ingiustizia personale non essere lì a dibattere aspetta nel Signore custodice il tuo rapporto con Dio custodice ascolta lo Spirito Santo sia una persona integra mette a disposizione di Dio tutti i tuoi doni e vedrai che quando passa qualsiasi cosa sia adesso domani dopo domani tu fatti trovare pronto pronta e non deviare né a destra né a sinistra quindi facendo un lavoro dentro di noi noi avremo anche risultati fuori da noi amén ed è importante incominciare l'anno così dicendo ok è un'altra parte nel senso siamo quasi a Natale a qualche mese prima di Gingobeo ancora per finire quest'altra parte di anno dicendo ok è l'anno per la nostra chiesa del dare noi vogliamo investire noi vogliamo dare sono molto contenta abbiamo raccolto ancora dei soldi per l'Afghanistan siamo più o meno quasi 11.000 euro e a parte due chiese una inglese e una brasiliana quasi tutto è raccolto tra di noi e tra le nostre chiese in tutta l'Italia e stiamo aiutando e dico che bello nell'anno Seufle siamo riusciti a fare un'offerta così meravigliosa insieme per altri Dio ci ha detto quest'anno che noi saremo stati fonte di benedizione ed è meraviglioso che possiamo esserlo amén abbiamo aiutato dando alimenti a più di 100 famiglie per due volte in Perù abbiamo aiutato con più di 100 famiglie in Brasile abbiamo portato e stiamo portando penso che avete visto ogni tanto guardate con la Scegli Gesù anche con Missione Possibile portando alimenti in Bosnia ogni mese c'è qualcuno che sta viaggiando a portare cibo alimenti così e adesso anche con altri afghani che passeranno lì è pieno di afghani Dio ci sta dando la grazia pur non essendo la più grande chiesa del mondo solo con le nostre risorse le tue le mie quest'anno di essere davvero fonte di benedizione per tante nazioni anche per tante famiglie sapete che durante il lockdown abbiamo alimentato più di 110 famiglie lo facevamo alla settimana oltre a portare medicinali eccetera 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 e continuiamo a fare è meraviglioso che noi possiamo essere risorsa di Dio e voglio dirti una cosa per concludere lo spirito dell'anticristo che vuol dire il contrario a Cristo farà di tutto perché tu ti concentri su di te guardate nell'Eden quando il diavolo ha tentato Adamo e Eva il diavolo gli ha detto adoratemi il diavolo ha detto venite perché io sono Dio e Dio non è Dio no il diavolo cosa gli ha detto voi siete dei se voi mangerete il frutto voi diventerete come Dio vuol dire se tu mangi di questo frutto tu diventi Dio e questa sarà la tentazione dell'anticristo che tu guardi a te e non guardi agli altri perché l'ha fatto nell'Eden uno dice nell'Eden ha tentato e loro hanno seguito il diavolo no lui è subdolo se tu pensi solo a te tu lo stai già seguendo Dio ci ha creati per non pensare a noi guarda la matematica della vita lui ti ha fatto con due occhi tu puoi vedere chiunque in questa sala tranne una persona chi? tu perché Dio ci ha creati con due occhi dove noi possiamo vedere chiunque tranne noi se lui è perfetto e se lui avessi voluto che noi guardassimo noi stessi non avrebbe fatto degli occhi non so magari qui che potevamo guardare noi stessi chi ha creato i selfie sono stati gli uomini Dio ha creato gli occhi per vedere gli altri e la tentazione del diavolo dall'Eden è che tu pensi che tu sia Dio io sono importante la mia vita il mio corpo il mio pensiero il mio desiderio il mio futuro i miei soldi le mie cose finché tu pensi a te tu stai facendo il gioco del diavolo per questo quest'anno è importante selfless guardando gli altri Dio ci ha creati per guardare fuori da noi Dio ci ha creati per guardare quello che gli altri hanno bisogno gli altri necessitino gli altri amen quindi in questo tempo stiamo attenti selfless a guardare altruvi rientrare nel piano di Dio per noi alzano tu mano con me inizio a dire signore noi vogliamo incominciare questa domenica incominciare questo anno insieme decretando nel nome di Gesù un tempo tu sei Dio degli inizi tu ci permetti di rincominciare ogni volta e noi cadiamo e tu ci dici rincomincia noi cadiamo ancora e tu ci dici rincomincia ancora e cadiamo ancora e ci dici rincomincia ancora ma un giorno non ci sarà più questa possibilità noi non vogliamo arrivare a quel giorno dove non ci sarà più possibilità di pentimento noi vogliamo pentirci finché è tempo come per i Niniviti nel tempo di Giona era tempo di pentimento ma dopo qualche anno 120 non era più tempo di pentimento era tempo di giudizio signora noi vogliamo entrare ancora mentre noi possiamo ancora pentirci mentre noi possiamo ancora cambiare noi vogliamo essere qui e vogliamo cambiare e io voglio invitarti sia la prima volta che sei venuto in questo posto se non hai mai dato la tua vita a Gesù se non hai mai fatto una preghiera oggi è il giorno di cambiare siamo ancora nel tempo della grazia di Dio non del giudizio ma arriverà anche il giudizio siamo nel tempo della sua grazia approfitta pentiti cambia anche se sei credente anche se sei lontano da Dio anche se sei caduto durante l'estate alzati perché sei ancora nel tempo del pentimento di Dio aiutami a rincominciare io so che ho rincominciato un milione di volte questa sarà la un milione e uno ma io voglio rincominciare nel nome di Gesù rincominciare con il mio rapporto con te forse non l'ho fatto forse non ho separato il tempo ma lo voglio fare voglio seguire la voce dello Spirito Santo sì Signore voglio custodire la mia coscienza la mia etica la mia morale chi io sono essere coerente e voglio poter darti tutti i miei doni tutti i miei talenti perché tu li usi per il tuo regno Padre io voglio pregare anche per i miei occhi tu ci hai dato questi due occhi per guardare gli altri e io prego nel nome di Gesù nel nome di Gesù che io non cada in tentazione come Adamo e Deva che hanno avuto la tentazione di essere più importanti di te hanno avuto la tentazione di mettersi al posto di Dio e di essere loro il centro della loro vita io ti offro oggi la mia vita non voglio essere il centro della mia vita non voglio passare le mie giornate pensando a me come sto come non sto o davanti a internet guardando me stesso con un miliardo di selfie signore dammi occhi per vedere il bisogno degli altri dammi occhi per servire tu mi hai già dato gli occhi umani per fare questo dammi anche quelli spirituali nel nome di Gesù nel nome di Gesù io voglio invitarti a rincominciare abbiamo ancora altri mesi fino alla fine dell'anno usa questo mese di settembre come un anno un mese dove stai rincominciando come se fosse il primo giorno non importa se hai rincominciato un milione di volte perché noi siamo ancora nel tempo del pentimento e se tu dici ho sbagliato posso ancora rialzarmi rialzati perché arriverà un giorno sulla terra dove non ci sarà più il tempo del pentimento e noi non vogliamo essere qui per vederlo amen noi non vogliamo essere qui per vederlo noi vogliamo essere pronti e preparati prima di tutto ciò per affrontare questo tempo prima nel nome di Gesù quindi io rincomincio da qui e rincomincio da qui anche la mia fede io credo che tu sei Dio io ti dono la mia vita il mio cuore ti dono la mia esistenza e rincomincio con fede nel nome di Gesù prendi in mano la tua fede fede e certezza di ciò che speri io spero che Dio faccia cose meravigliose nella nostra vita guardatevi bene voi pensate che Dio ci ha dato un'immaginazione solo perché noi pecchiamo con l'immaginazione perché pensiamo cose che non dobbiamo pensare perché pensiamo male della gente perché immaginiamo cose o ci ha dato questa immaginazione perché possiamo immaginare anche cose meravigliose perché non incominciamo quest'anno immaginando cose meravigliose perché siamo sempre lì a dire l'immaginazione può andare altrove perché invece non la facciamo rimanere nella fede perché non incominciamo usare l'immaginazione che Dio ci ha dato e iniziare a sognare proiettare fede dicendo io credo che la nostra chiesa crescerà che noi ci espanderemo io credo che Dio è con me quindi nulla sarà contro di me lui aprirà porte per me nella mia casa nel mio lavoro lui farà lui farà perché non usi la tua immaginazione per pensare come sarà quello che Dio ti ha consegnato nelle mani forse lui ti ha detto di scrivere un libro perché non usi la tua immaginazione per immaginare come sarà questo bellissimo libro forse lui ti ha detto di scrivere una canzone perché non usi la tua immaginazione per scrivere la più bella canzone che l'Italia abbia mai cantato forse lui ti ha detto di fare un investimento un imprendimento perché non usi la tua immaginazione ogni giorno non inizi a sognare con quell'imprendimento iniziamo bene usando tutto quello che Dio ci ha dato tutte le nostre risorse la nostra lingua la nostra mente la nostra fede anche questi sono doni e talenti usiamo armiamoci di fede per affrontare questo tempo nel nome di Gesù preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita selfless sostenere è più di una parola